Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 20 aprile. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro Rita Ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quello stesso giorno, due discepoli del Signore Gesù erano in cammino verso un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro di nome Cleopa gli rispose, solo tu sei così forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro, che cosa? Gli risposero, ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recati al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano direzzi, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista ed essi dissero null'altro. Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Il lungo e molto bello racconto è lungo ma è molto bello il racconto dei discepoli di Emmaus. Sì, essi riconoscono Gesù allo spezzare del pane. È impressionante notare come questo Cleopa in realtà conosce tutto del mistero pasquale perché cita la morte la condanna a morte la morte in croce la sepoltura le donne a sepolcro gli angeli che dicono egli è vivo la corsa a sepolcro di alcuni e il sepolcro quindi vuoto certamente vuoto sa tutto ma non ha l'essenziale non ha la fede non crede alle parole che dice soprattutto non crede all'annuncio angelico egli è vivo ed ecco allora il rimprovero di Gesù che lo invita alla fede comprendendo le scritture e attraverso le scritture dei profeti e riconoscendo Gesù nello spezzare del pane Cleopa e l'altro giungono alla fede. Chissà perché non sappiamo chi era l'altro non è scritto boh ma forse anche in questo caso siamo invitati a riconoscere noi stessi nell'innominato discepolo e ogni volta che andiamo a messa e ascoltiamo le scritture e vediamo i sacerdoti che in persona a Cristi consacra e spezza il pane riconoscere la presenza del Signore Gesù risorto e vivente. Questa è la nostra Pasqua. Preghiamo ognuno per gli altri buona giornata sia lodato Gesù Cristo riso. Gràcies.